La verità della questione è, per quanto scomodo possa essere per alcune persone, siamo davvero nel campo della manipolazione psicologica, se è davvero quello che stiamo facendo. Ora, si spera, lo stiamo facendo tutti come mezzo per fornire valore etico. E detto questo, non ho intenzione di sostenere questo punto con continui avvertimenti. E questi avvertimenti e disclaimer diventano noiosi. Ad esempio, quel testimonial che avete appena visto da Frank, avremmo dovuto, se lo riutilizzassimo, lo metteremmo in sovraimpressione in fondo allo schermo, avrebbe dovuto essere avvertito che stava descrivendo i risultati tipici e medi raggiunti dalle persone che partecipano. Quindi vi darò l'avvertimento una volta, che il contesto qui è che lo facciamo sempre per fornire valore etico. Ma diciamo che in realtà si tratta solo di manipolare la psicologia del cliente. Manipoliamo le sue paure, manipoliamo le sue ansie, manipoliamo i suoi risentimenti, manipoliamo i suoi desideri segreti. Manipoliamo ogni sorta di cose interiori per superare la sua compiacenza, l'inerzia dello scetticismo, la riluttanza a spendere soldi, e via così, per convincerlo a darci soldi in cambio di beni o servizi. E così tutto. Quelli intelligenti tra noi, alcune persone hanno detto di me come, ehi c'è una critica. Lo prendo sempre come un complimento, indipendentemente da com'è rivolta. Questa è una lezione secondaria a proposito, è da segnare, questo non è da sottovalutare. Indipendentemente dal modo in cui qualcuno parla di te, puoi sempre scegliere di prenderlo come un complimento. E quindi, in un mercato in cui ho lavorato molto, da molti anni, voglio dire, in realtà ho avuto persone che venivano fisicamente da me e dicevano, sei il più grande coglione che abbia mai visto. E direi sempre grazie. Sapete, voglio dire, beh, chi vuole essere il secondo in una cosa, lo sapete. E intendo che ciò indicava che stavano prestando attenzione, e stavano leggendo, e stavano ascoltando, e sapete anche che erano individui relativamente percettivi e intelligenti. Quindi lo prendi come un complimento. Così mi hanno detto alcune persone. Spesso sembra che tu faccia tutto apposta, a proposito. Sì, certo. Pochissimi soldi sono fatti per caso. Certo, voglio dire alcuni sì. Trovi un dollaro a terra che è caduto a qualcuno, è una specie di incidente, voglio dire, ma pochissimi soldi sono fatti per caso. Quindi sì, apposta. Quindi una persona sceglie l'immagine personale che sta per presentare perché è adatta per rivolgersi al suo particolare mercato. E partiamo da lì. Quindi si tratta davvero di manipolare la psicologia dei nostri clienti. E cosa significa veramente? Significa che dovremmo dedicare più tempo ed energia a capirlo, piuttosto che a capire qualcos'altro. Ma non solo dal punto di vista della vendita, ma dal punto di vista di soddisfarli dopo la vendita. Vedete, a loro non importa tanto se il prodotto è ben confezionato o non tanto ben confezionato. O se la qualità del suono sul CD è perfetta o non del tutto perfetta. Sapete quando a loro importa davvero? Si preoccupano davvero di questo quando la connessione psicologica tra loro e la persona che comunica con loro non è molto buona. È allora che se ne preoccupano molto, che diventano molto esigenti. Ma quando la connessione è davvero buona, a loro non importa così tanto. Non è importante per loro perché la connessione è spettacolare.